Oh, tagliate ragazzi, ho preparato, boccate. Dagli, tagli, tagli, stai con la camera, non ci va bene. Sì, non c'ho io, questa... Ok. Qua va bene? Sì, sì. Più o meno, dai, più o meno ci stiamo. A me a prendere il telecomando, così ti va con il volume. Comunque possiamo fare meglio questa foto. Aspetta. Aspetta, magari metto un po' più... No, troppo zoom. Vabbè, sai, così va bene, dai, non per cazzo, su. Va bene o no? Dimmelo te se va bene. Sì, c'è stata, però la tua sinistra. Va bene, sì, ok. Allora, sto telecomando? Io ce la ho, allora, vieni, dai. Dai, 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 dai. Dai, scusciate. Dove erano rimasti? Non c'ho idea, non c'ho idea. Non ho fatto questo. Sì, va perché l'Antonera ha morto, dura o è una guignola? Sì, la cosa te ha... Sa che è il tuo? Te l'ho detto un millione di volte che non devi tenere il telefono acceso nel telefono e ci staranno. Pronto? So cosa state facendo. So cosa stiamo facendo. Ma chi? Ma chi? Sono dentro. È dentro. È dentro. Sei dentro? Dentro casa. È dentro casa. Dentro casa. Dentro casa. Ah, regà, sta dentro casa. Come sei dentro casa? Come vi siete permessi? Ma infatti, ma come ci siamo permessi? Ma fa che? Ma fa che? Dice... Qui fanno facce strane. Avevate promesso di cacciarlo? Avevate promesso di cacciarlo, infatti. Ma chi? Ma chi? Leonardo. Leonardo. Leonardo, io. Avevamo promesso di cacciare Leonardo. E' un personaggio. E' un personaggio. E' un personaggio. E' un personaggio. Ma che è ora? Ma non ti starà giocando. Silenzio. Sì, sì, sì. Venitemi a cercare. Andiamola a cercare. No, no, va bene, va bene. Andiamo a cercare. Andiamo a cercare. Andiamo, dai. Dai. No, cazzo stai. Leonardo, che fa voi. Lo cazzo sei finito. Fai un'altro. Leonardo, c'è pericolosa così. Leonardo, c'è pericolosa. Leonardo, c'è pericolosa. Leonardo, pericolosa. No, 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 no. Dove cazzo sei? Dove sei? Da dove mi pensa a prendere tutti i clip, da dove? Ma che devo dire? Quello che va bene. Iniziamo. Mentre in gioco a fila devo fare. Va bene, inizio io, regà. No, devi iniziare a dare. Ma non so cosa di. Che te frega, vai. Nel senso, ah ah, sono tornato. Sì. Bella, raghe. Bella a tutti, ragazzi. Spero vi sia piaciuta questa intro. Ci abbiamo messo di più a montare quella che è effettivamente il vlog. Sì, decisamente. Sì, che il vlog è una zetta molto... No, ma l'abbiamo fatta per il tuo ritorno. Per il ritorno è meno male. È meno male. Il succo, comunque, ragazzi, è che sono rientrato. È un succo che fra due mesi riparta. Esatto, il succo. Forse, forse. Ancora non è sicuro. Tutti noi speriamo che riparta. Quindi magari invece rimarrò qui, Leo lo mandiamo via e... Perché è quello? No, no, perché in realtà ci è piaciuta sta formula del trio. Quindi 1-1 tocca... E purtroppo è popolionato. Ma non è che lo decidiamo noi, eh? Sì, sì. I tre moschettieri, i tre caballeros, i tre... Cioè, hai capito? I tre, i tre. Te l'ha detto. Quindi, ragazzi, ora continueremo con la programmazione normale. Faremo qualche speciale. Dopo sei mesi... Dopo sei mesi di sto... Dio si torna in forma standard. In forma standard. Stando in cisto. E quindi, niente. Cosa possiamo dire? La cosa più importante. Lì, che insubscrive. Mamma mia, che bella. Ragazzi, se ti è piaciuta quest'intro... Se ti è piaciuta, ci abbiamo messo... Cioè, poi, più che intro, alla fine è quella. È una bella inst. Sì, sì, no. Guarda, 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 è sto per... Ma noi... Guarda, guarda, guarda. Lo sai perché è bello il nostro finale? Perché è vario. Cioè, noi non c'è... Esatto. Ma con lì, ci facciamo quello che c'è l'altro. Tipo adesso, a me, mi va a te cacciare. Lo fanno, via, c'è! 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 Lo fanno, via, pazzi, via! Non mi sta ammerando, in realtà. Paolo, Paolo, vogliamo dire, in realtà era un trucco il cinematografico. Si, in realtà era un trucco. Ma in realtà David è fatto casi GI, c'è stato. Io, in realtà, c'è tutta la poster grafica. Io, in realtà, sto sulla nave. Sì, sì. Sì, sa quelli che era. Vabbè, ragazza, è stato un gachi. Quindi, bella, bella, è bella. Come ti fanno? Faremo un caso speciale, qualche cosa caruccia, lì che si scrive e lo mangiate a tutta. Dice... Sì, tipo, via, guarda il povero, ciao, ciao, ciao. Vabbè, mandaglia, 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 guarda, muove un attimo, guarda, muove un attimo. Via. Silenzio. Dai, gà! Silenzio. Puoi prendermi che te lo possiedi? Sì, stai facendo. Mi sono pure io. Puoi riprenditi, ste parti, mi devi dire. Quals'è io? Problema. La gaccia da me. Che cos'era? Che c***o? Guarda di qua. Mi ha fatto. Paolo, lo sai che cosa è che ho fatto? Leonardo, guarda di qua, mi ha fatto così. Questi traumatizzati. No, c***o. C***o no! No, per favore, rifammo l'arvolo, rifammo l'arvolo. Sono dentro. Sì, sì, sono dentro. Sembrava Franco Trenta Lanci. E poi... Sono dentro. Il vero. Sì, sono dentro. Sono dentro. Grazie.